Da sabato 22 luglio e per tutta l'estate, Cagliaritani e turisti potranno finalmente godere di una giornata a bordo di Momo, elegante caico costruito nel 1993 in Turchia, e andare alla scoperta e riscoperta delle cale più suggestive, a volte sconosciute, del Sud Sardegna. Una grande opportunità in una stagione dai numeri record, che vede Cagliari come una delle mete più richieste e apprezzate dai turisti. Un'ulteriore e straordinaria opportunità per promuovere al meglio la città e il nostro territorio, ma voglio aggiungere che è importante, soprattutto nella ricerca del turismo esperienziale, della quale il Cagliari è una città molto ambita, una distinzione sicura, bella, richiesta, e ovviamente bisogna anche dare servizi. Questo è uno dei servizi, soprattutto estivi, che mancava, anche perché è un valore storico, e quindi batterà delle tappe qui dalla costa, tra Cagliari e Villa Simius, quindi saranno delle tappe importanti, delle soste importanti per i turisti che vedranno questo bellissimo mare. I primi sei mesi del 2023 sono superiori ai primi sei mesi del 2019, abbiamo avuto numeri veramente importanti, questi sono numeri da record, i primi dieci giorni del mese di luglio sono superiori, almeno l'aeroporto Icali, è il 10% in più rispetto ai primi dieci giorni di luglio del 2019. Tenendo conto che ci sono crisi purtroppo in tutto il mondo, scioperi e quant'altro, insomma, ne stiamo scendo bene, è un momento difficile. C'è sempre da fare di più, si può fare di più senz'altro, dobbiamo migliorare alcune criticità, però lo stiamo facendo. Le escursioni a bordo del veliero si terranno tre volte la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 fino alle 18, mentre la sera, dalle 20 alle 23, Momo si trasformerà nella location perfetta per una pericena sotto le stelle, cullati dalla bellezza suggestiva del capo Sant'Elia, visto dal mare. Il giovedì, invece, spazio alla navigazione gourmet con la formula dell'escursione di mezza giornata, con la degustazione delle prelibatezze e dei vini locali.